Io credo che il 31 gennaio sia una data che difficilmente dimenticherà Risti di Colai. Che cosa è successo in quelle ore finali? No, io la mattina mi ero allenato con la squadra, ero diciamo pronto per partire per la trasferta con il Monterosi. Poi comunque mi è stato comunicato che c'era quasi un accordo col Crotone. Ho accettato? Io sì, ho accettato l'accordo, non ero partito poi con la squadra dopo l'allenamento della mattina. Poi ci sono state delle cose che hanno fatto saltare tutto. Adesso al 100% con la mente, per il Pescara e a Pescara? Certo, certo, no. Io come ho detto prima del mercato la mia intenzione non era quella di andare via. E' saltata fuori questa occasione e l'avevo accettato, però sì, la mia testa è qui a Pescara e darò il massimo fino alla fine stagione. Non è stato difficile tornare ad essere un giocatore del Pescara dopo quel pomeriggio di Monterosi? No, non è stato difficile. Comunque sono una società importante e quindi c'è il mio obiettivo dopo comunque non essere andato a porto. Il trasferimento era quello di subito rimettermi in gioco e dare il massimo per questa maglia. Con Cuppone hai fatto pace, visto che ti eri un po' arrabbiato ad Andrea che non ti ha passato quel pallone? No, beh, lì sono dinamiche che succedono. Una volta è successo anche con me che magari non ho passato una palla a lui. C'è stato battivecco, però alla fine sono cose da campo, finiscono lì. Ricordo male o all'andata con il Giuliano avete lasciato qualche punto di troppo? Sì, diciamo che c'era stata quell'occasione che si è rimasta in 10, però la squadra aveva lavorato bene anche in 10, aveva avuto tante occasioni per poterla vincere. C'è stato un po' di rammarico, ora dobbiamo pensare alle prossime partite.